Matteo Salvini è in crisi sui social network. La sua pagina Facebook, gestita da Luca Morisi e dal suo staff, nell'ultimo mese ha avuto interazioni dimezzate. Da una media di 10 milioni a settimana si è passati a poco più di 5 con un'interazione media nei post di 95.000. Un crollo raccontato oggi dal Fatto Quotidiano e che arriva mentre la sua competitor diretta Giorgia Meloni è arrivata a 115.000 interazioni per post con meno della metà dei followers del Capitano. I 4,5 milioni di fans del leader della Lega non sembrano più apprezzare il Capitano come ai bei tempi. Ovvero come quando era all'opposizione del governo di Giuseppe Conte e si intestava qualunque tipo di protesta per riaprire durante il lockdown. Il nuovo corso governativo della Lega mette in difficoltà i fans che si aspettavano una guerra senza quartiere nei confronti dell'ex presidente della Banca Centrale Europea. Spesso bersaglio polemico del Capitano quando ancora voleva uscire dall'euro. Oggi ha cambiato idea. Ma oggi diventato un presidente del consiglio da sostenere. E così. Spiega oggi il fatto. Secondo i dati della piattaforma Fanpage Karma. Che fornisce gli insights. Ovvero i dati interni. Delle pagine. Salvini nell'ultimo mese ha raccolto una percentuale di engagement inferiore a quella di Meloni. 5,9% contro 9,5%. Mentre l'indice di performance della pagina. Che somma mi piace. Commenti e crescita dei seguaci in rapporto al numero dei fans. Lo vede solo quarto dietro la solita Meloni. 69%. Giuseppe Conte. 64%. E Nicola Zingaretti. 52%. Anche la crescita dei followers sta diminuendo mentre quella di altri politici come Conte è tumultuosa. L'ex premier ne ha guadagnati un milione contro i 600 mila del leghista. Grazie a tutti.